Sbollita 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 Questa penalizzazione Offusca un po' il lavoro Che invece è stato fatto fino adesso Secondo me Perché oggi tu sei a 5 punti Dai playoff saresti Quindi diciamo Nel disastro che si parla Che sento dire Io invece vedo dei ragazzi Che molti sono cresciuti Gente che non giocava mai Oggi gioca in B Cerco sempre di vedere Il lato buono delle cose Poi col fatto che Abbiamo sicuramente dei limiti Da migliorare Questo sicuramente E' lecce di aspettarsi La regina Vista dominare Contro l'Ascoli Appena sabato scorso Io Per me non sarà così Perché Il Varese è una squadra Molto più forte Dell'Ascoli Non è che tutte le Perdo a livello di uomini Ovviamente Non puoi la partita Chiaramente Ma a livello di uomini Sicuramente la regina Deve continuare Con il suo Moro di giocare Che ha avuto con l'Ascoli Anche come qualità Di giocatori Che sono scesi in campo Una partita che affronti in casa Devi cercare sicuramente Di fare risultato E qui E qui Grazie a tutti.